Scusi, un'intervista per la stampa. Allora, siccome queste sono, queste sono di Oliela, queste di Boudouzou, queste di Gona e io di Jibba, queste di Jibba, queste qua. Siccome noi siamo delle persone molto antiche, si vede un po' dalle facce, proviamo a sapere se qua, per esempio, le cape le mungono ancora con le mani o con le mungitricce, con le mani, come noi.